Grazie a tutti. Ho guardato un film già visto sette anni fa, ho partecipato all'Assemblea dell'Unione delle Provincie Italiane e dissi cerchiamo di promuovere un'autoriforma insieme perché verrà il giorno in cui arriverà una cosa che non vi piace. Devo dire che invece il Presidente Dardanello è stato molto più sveglio dei Presidenti delle Provincie Italiane, cioè ha capito per tempo che per salvare la sostanza di questo importante corpo intermedio era necessario assumere un'iniziativa. E quindi io voglio dire con molta franchezza come siamo abituati a fare, come già hanno parlato in maniera molto chiara sia il Ministro Guidi che il Ministro Madia che stanno facendo un lavoro incredibile in questi mesi per cercare di portare avanti le riforme del nostro Paese. Voglio dire in maniera molto chiara che l'invito che ha fatto il Presidente Dardanello è un invito da prendere su serio. Vi siete dati degli obiettivi, vi siete dati degli obiettivi, prendiamoli su serio, cioè facciamo in modo che l'autoriforma proceda. Io sono profondamente autonomista, come sa qualcuno seduto qui in questa sala, quindi non sono contro i corpi intermedi, sono contro i corpi morti, che sono due cose diverse. Lo ha detto già il Presidente del Consiglio. Siamo a favore dei corpi dinamici, cioè dei corpi che mantengono viva la loro mission. La collaborazione con il Presidente Dardanello ci ha consentito, credo, di riflettere in maniera molto approfondita su alcuni aspetti. Questa ottima collaborazione credo che ci darà l'occasione per dimostrare al Paese quello che noi vorremmo dimostrare, cioè che è un Paese capace di trasformarsi, di affrontare le sfide del presente, come ha detto il Ministro Madia, senza bisogno di continuamente legiferare, con tutto rispetto per chi legifera. Perché questo è un punto. Noi, le imprese nel mio territorio non sono nate perché c'era una legge che diceva viva la piccola e media impresa, sono nate perché è stata la crisi della grande industria, ha chiuso le reggiane, scusate faccio un accenno personale, le reggiane, c'è la grande fabbrica che è, questi sono diventati tutti piccoli imprenditori, tornitori, hanno deciso che non c'era alternativa, sono tirati sulle mani che hanno fatto la piccola e media impresa meccanica reggiana, emiliana. Quindi noi sappiamo che non è il Governo che guida la società, non abbiamo una visione, come dire, hegeliana in cui il Governo decide e il mondo si muove, anzi, siamo molto favorevoli al fatto che ci sono iniziative dal basso. Per questo credo che la provocazione, che è molto più di una provocazione che ha fatto sia il Ministro Guidi ma anche il Presidente Dardanello, cioè di accompagnare la nascita delle nuove imprese, delle start-up, sia un elemento assolutamente importante, decisivo, su cui concentrarci. E io credo che noi potremo fare un ottimo lavoro se voi rispetterete un po' i tempi che vi siete dati, cioè se queste forme di autoaggregazione, di trovare la massa critica giusta, la massa critica giusta per rispondere alla vostra mission, e la mission che è nata dalle esigenze delle imprese, dei territori, è una mission giusta, è importante questo del servizio. Non vogliamo più ridiscutere, ecco, perché c'è stato un momento in cui nel Governo, attenzione, noi non è che agiamo poi sempre così sull'istinto, cerchiamo anche di ragionare anche noi, portate pazienza, non vogliamo ridiscutere su il tema dei paesi a civil law o a common law, cioè su un regime pubblicistico o privatistico, perché esistono anche forme in cui, come sapete, in diversi paesi si sceglie di avere un regime privatistico di questi servizi. Quindi era una discussione, secondo me, legittima, ve lo dico con molta franchezza, ve lo dico con molta franchezza, è una discussione legittima, questa sul tema del contributo obbligatorio. Lo ritengo una discussione da paese civile, in cui ci si guarda negli occhi e si dice, allora, è giusto o no questa cosa? E lo stesso faremo con tutte le altre cose, con gli ordini, con tutte le cose che, insomma, in questo paese abbiamo anche un po' bisogno di imparare a correre, non solamente di camminare conservando quello che abbiamo. Quindi era un'istituzione legittima. Mi pare che adesso l'abbiamo incanalata, non snaturando la natura delle Camere di Commercio, quindi continuando a riconoscere il contributo, però non fermiamoci. Nella stagione, come ha ricordato efficacemente anche adesso sia il senatore Pagliari che il senatore Mucchetti, per esempio, sul tema delle risorse ci sono ampi spazi di esplorazione. Se siamo soci in tutte le società aeroportuali di tutte le città, una volta lo sviluppo economico era così, ci mettevamo a sedere, io un po' di sviluppo dei territori, come dire, ci ho vissuto. Allora, ci mettevamo a sedere e dicevamo, dobbiamo avere tutti l'aeroporto, perché persino la Reggio Emilia ha fatto l'aeroporto, perché se non abbiamo l'aeroporto non saremo competitivi. Dobbiamo avere tutti il porto, in certi paesi del sud, dobbiamo avere tutti la fiera, brava, scusa Federica, mi hai dimenticato, è la fiera, poi è l'esempio classico. Dobbiamo avere tutti la partecipazione nelle strade, ma perché? Cioè, chiaro che a volte siete stati tirati per la giacchetta, magari proprio dagli amministratori locali, magari proprio dai territori, che vi dicono dateci una mano a fare questa società, perché altrimenti, no, mi ne rendo conto, non è che mi è ignoto questo meccanismo, ma è un momento di... fermiamoci, fermiamoci. A un certo punto le municipalizzate nei comuni si sono fermate e hanno detto, oh, ma siamo più forti, stando ognuno facendo la sua piccola società o mettendole insieme, magari quotandole in borsa, magari dandole un pezzo al mercato, magari togliendo una governance barocca legata alla politica, eccetera, eccetera. Cioè, l'obiettivo di servizio si può raggiungere lo stesso, sì o no, anche cambiando le forme con cui ci organizziamo, secondo noi sì. E in questo dinamismo si trovano risorse. Se io prendo la mia società municipalizzata, faccio prima una fusione, poi la quota in borsa, poi faccio un'altra fusione e mantengo ottimi servizi, ho generato risorse, ho generato capitali freschi, ho generato investimenti freschi. Quindi è chiaro che voi avete davanti a voi una sfida molto importante, che è quella di essere protagonisti di questo nuovo ciclo di ripensamento delle strategie intelligenti territoriali. Le strategie intelligenti territoriali non possono più essere indistinte, non possono più essere che tutti facciamo tutto, tutti abbiamo gli stessi servizi, tutti abbiamo le stesse fiere, perché il mondo ci ha detto che così non resistiamo, siamo morti. Punto. Quindi prima di, come dire, celebrare il nostro funerale reagiamo, con lo spirito con cui hanno reagito i piccoli imprenditori delle nostre grandi industrie, quando hanno detto adesso facciamo la piccola impresa perché non c'è più posto per noi nella grande industria. Quindi questo è il senso, credo, anche degli sciocchi che noi cerchiamo di dare ai sistemi. È il senso di dire non siete inutili, non non servite, ma ritrovate e ritroviamo insieme il vero spirito da cui siamo nati. Solo ritornando agli inizi recuperiamo la nostra originale vocazione, diciamo così, e anche il collegamento con coloro a cui facciamo i servizi, perché anche questo è un tema. Quindi abbiamo davvero, da questo punto di vista, davanti a alcuni mesi decisivi. Il governo cercherà di chiarire meglio, perché abbiamo ancora alcuni punti che dobbiamo chiarire meglio, su questo tema della mission. Per esempio, io penso che questo tema, ripeto, delle start-up, delle nuove imprese, questo tema della semplificazione rispetto alle procedure burocratiche, della mediazione appunto tra le imprese, ma anche il tema dell'incrocio tra domande e offerta di lavoro, credo che questo sia un altro elemento su cui le Camere potrebbero dare un apporto decisivo, però non siamo ancora pronti per questa riflessione. È colpa nostra. Io penso che noi dobbiamo fare, quindi faccio anche la mia autocritica come governo, noi dobbiamo avere un sistema, lo avremo la settimana prossima, speriamo, un piano della logistica e dei trasporti, tale che sia chiaro che non si investe più in certi porti, ma si investe in altri. Sia chiaro che non si investe più in certe strade, ma si investe in altre. Quindi dobbiamo avere noi, anche l'idea è molto chiara, per dirvi i settori più strategici. Abbiamo messo a punto un piano per la banda ultralarga, coordinato appunto a Chigi con tutti i ministeri competenti, esattamente per dire i privati faranno questo, le regioni faranno questo, lo Stato farà questo. Non possiamo avere otto piani diversi della banda ultralarga. Quindi può darsi che la Camera di Commercio di Lecco sia chiamata a partecipare al piano di sviluppo della banda ultralarga, ma quella di Milano no, perché lì ci sono già gli investimenti privati sufficienti. Cioè, dobbiamo metterci a sedere e vedere cosa serve alla nostra gente, alle nostre famiglie, alle nostre imprese. Mettiamoci a sedere insieme, ma mettiamo in campo la nostra intelligenza non conservativa, ma innovativa, quella che guarda avanti. Il cambiamento non è un giudizio su quello che avete fatto. Il cambiamento è la precondizione per rimanere quello che siete, cioè un punto di riferimento. Chiaro? Vale per noi come politici, ma vale anche per noi. Se questa sfida la raccogliamo insieme, credo che faremo un ottimo servizio al nostro Paese. Grazie. 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 Grazie.